100 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese che fanno innovazione. Grande successo per l'accordo sottoscritto nel 2016 dal Credito Valtellinese con il Fondo Europeo per gli Investimenti. L'iniziativa, che si inserisce nell'ambito di Horizon 2020, programma quadro dell'Unione Europea per ricerca e innovazione, ha permesso al gruppo bancario di supportare con rapidità ed efficienza le imprese clienti innovative o in rapida crescita, con necessità di un sostegno finanziario assistito da garanzia InnovFin di FEI. La proposta di Crevale del Fondo abbraccia non solo le PMI e le cosiddette Small Mid Cap, aziende quotate con piccola e media capitalizzazione fra 250 e 499 dipendenti operanti nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ma si rivolge a tutte quelle imprese che sono alla ricerca di investimenti finalizzati a innovare il catalogo prodotti, innovare il processo produttivo, ampliare le modalità di vendita o sostenere programmi di ricerca e sviluppo. Grazie alla collaborazione con il Fondo, le imprese innovative potranno accedere ad ulteriori 50 milioni di finanziamenti Creval, a tassi di favore e con tempistiche di perfezionamento dell'opera particolarmente contenute. Questo accordo, spiega Roberto Tarricone, responsabile commerciale del gruppo bancario, si inserisce nel filone delle iniziative avviate da Creval per rispondere in maniera concreta alle esigenze delle imprese che cercano soluzioni dedicate a sostegno della loro crescita. Continueremo ad affiancare in veste di partner le aziende target durante le diverse fasi della loro crescita. Unitamente alla garanzia del Fondo europeo, le aziende che investono nell'acquisto di nuovi impianti e macchinari possano beneficiare di ulteriori forme di agevolazione nazionali ed europee, come il contributo messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per investimenti in tecnologie digitali finalizzati all'introduzione di innovazione di processo e o di prodotto.